Li avete visti tutti quei film in cui l'eroina ha una malattia terminale ma nonostante la chemio e i respiratori è una gnocca spaziale? Ecco, non è il mio film. Ma perché gli scarti sono carini? Non abbastanza. C'è molta più dignità a farsi rifiutare da vostra figa. Trovato. Quindi? Come va con lo stalking? Non bene. Ha il profilo Instagram di un bimbo minchia. Il fa canottaggio come il padre, ingegneria navale come il nonno. Se ti annoio così tanto perché mi segui dappertutto? Che vuoi? Una cena! E poi se non scatta nulla giuro che ti lascio in pace. Andata. Marta, mia madre. Non mi avevi detto che si trattava di una cena di famiglia. Posso fare studi, lavori... Faccio gli annunci in un supermercato. Ma l'hai visto con chi si è presentato l'altra sera? Ma quindi sono la ragazza più brutta con cui tu sia mai uscito? No. Come ti vedi a 60 anni? Ti sei spinta un po' troppo oltre. Devi dirglielo. Non lo so. C'è fine fatto. Mi sai che avrei inteso. Chiudiamola qui. Quello che è successo ha accelerato tutto. La situazione è molto grave. Mi dispiace. Di tutto. Devo dirti una cosa. Abbiamo sempre una scelta. Ti amo tanto, lo sai. Potrei andarmi ne proprio sul più bello.